Signori e signore buonasera, benvenuti allo spettacolo della Fantasy Art di Sigillo 2018 e allora adesso chiamo anche un altro grande artista, lui si chiama Claudio Rossati ringraziamo con la Rossati Promotion, un grande artista internazionale che con ironia entra nel mondo figurativo dell'arte e con Mr. Clu che chiamo sul palco vicino a me, eccolo qua il nostro Claudio Rossati fatemi sentire, grazie, benvenuto grazie mille a tutti quanti, è l'ora di essere qui stasera per lui e allora noi facciamo vedere una bellissima scultura che sta qui dietro di noi che è Mr. Clu Clu mi dicono da dietro le quinte, scusate la pronuncia vi ho strappato un sorriso e allora quindi è un artista internazionale che con ironia entra nel mondo figurativo dell'arte e con Mr. Clu che chiamo sul palco che è l'alter ego dell'artista Claudio e questa sera come dicevo dietro di noi nel palco espone una scultura di Mr. Clu dal titolo Mr. Clu e la fantasy art ed eccolo qua l'alter ego di Mr. Clu di Claudio Rossati e quindi per l'occasione la fantasy art ha realizzato questo bellissimo abito con materiali di recupero il nostro Mr. Clu che Claudio appunto potrà prendere e portare in giro per l'Europa per le sue molteplici mostre e quindi ringraziamo anche Claudio Rossati di nuovo con la presenza di Giorgio che consegnerà il piatto di ceramica sempre realizzato da Roberto Fuglienesi ceramica e futuro d'arte ed eccolo qua un altro bellissimo piatto e allora che bello vuole dire qualcosa? grazie a tutti di nuovo non sono tanto per fare i grandi discorsi ma sono molto emozionato di stare qui grazie ancora a tutti grazie e allora un altro grande applauso grazie a lei signor Claudio e a Mr. Clu bellissimo